Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Durante una recente puntata del programma Quarto Grado, il conduttore Gianluigi Nozzi si mostrò notevolmente sorpreso al termine della registrazione. Fuori dallo studio, Carmelo Abate rivelò dettagli inaspettati riguardo l'omicidio di Pierina Paganelli, lasciando senza parole anche Davide Barzan, l'avvocato di Manuela Bianchi. Barzan aveva presentato una teoria affascinante, suggerendo l'esistenza di un quinto uomo potenzialmente coinvolto nel caso. Tra le persone coinvolte vi erano un'amica di Pierina, che aveva trovato il corpo insieme a Manuela Bianchi il mattino del 4 ottobre, e un vicino Moldavo, a cui Manuela aveva chiesto aiuto subito dopo la scoperta. Tuttavia, il vicino si era rifiutato di scendere nei garage. Spaventato all'idea di imbattersi in corpi, nonostante Manuela non avesse menzionato alcuna morte, fu poi Carmelo Abate a cambiare drasticamente la narrazione, dichiarando con sicurezza che gli investigatori avevano identificato l'assassino e negando l'esistenza del cosiddetto quinto uomo. Secondo lui, il caso sarebbe stato risolto presto.